Salve tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come risolvere così l'errore riguardo a Windows Script Host che ogni tanto esce sul nostro sistema operativo Windows 10 o Windows 11 quindi in questo caso è possibile risolvere questo problema attraverso il registro di sistema quindi andando direttamente su Editor del registro di sistema una volta aperto così il registro andiamo direttamente su Computer HQ Current User, questo qua vai direttamente su Software scendi fino a giù fino a trovare così la cartella Microsoft scendi fino a giù fino a trovare la cartella Windows Script Host una volta fatto entra così nella cartella Settings in Settings devi creare così il parametro RegD Word tasto destro sopra, nuovo, valore di Word lo chiami Enable Enableed, così lo chiami clicchi sopra, dati valore, metti 0 e fai ok una volta fatto andiamo direttamente sulla pagina che vi ho lasciato in descrizione riguardo al Microsoft Safety Scanner ovviamente questo è un strumento che rileva così malware sul nostro computer e farà del suo meglio di eliminarli quindi farà una scansione e vedere cosa c'è all'interno che rallenta il nostro computer che dà anche quel problema quindi noi adesso andiamo a scaricare la versione 64 bit che per il mio sistema operativo 64 bit quindi se tu vai su Start, tasto destro sopra, su Start, vai su Sistema come puoi vedere sistema operativo basato su 64 questo qua è il mio sistema operativo quindi adesso vado a scaricare questo qua una volta fatta eseguiamo così il nostro strumento esegui come amministratore ed eccolo qua mettiamo tutti i termini, facciamo avanti, facciamo avanti full scan, quindi una scansione completa, fai avanti una volta finita così la scansione non ti resta che andare direttamente su cmd quindi fai su cmd prompt dei comandi, esegui come amministratore il prompt dei comandi e andiamo a scrivere sfc spazio slash scanno per fare una verifica di integrità dei file farà anche la scansione di tutti i file del sistema e aspettiamo avvio in corso dell'analisi del sistema e attendiamo ed eccolo qua, protezione risorse di windows, file danneggiati, trovati e ripristinati quindi grazie anche al programma prompt dei comandi del nostro sistema è riuscito così a ripristinare dei file danneggiati nel nostro pc quindi in questo caso quello che ti resta da fare è riavviare il sistema e ai risultati per altri problemi ancora puoi sempre usare questo programma, questo strumento che è veramente ottimo per fare una scansione se ci sono malware o file che danneggiano il computer e che lo rallentano quindi grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao ciao